È chiaro che il caso del secondo lotto è il bisagno, che sarebbe potuto fare in 30 mesi e che ogni volta che ne fai un po' migliora perché tira di più, è come se noi avessimo anziché un tubo così, un tubo così e che ha passato 30 mesi senza concludere l'Italia, in attesa di sapere chi vuole fare, è un caso clamoroso.